Neve Orlandi, prima vigilia alla guida del Barletta, innanzitutto iniziamo con un bilancio di questo ritiro di Corato. Direi positivo, buono, c'è stata grande disponibilità da parte dei ragazzi e quindi si sono creati i presupposti per un buon lavoro in questi giorni e siamo arrivati al sabato con profitto. Lei in sede di presentazione ufficiale ha fatto riferimento ad un modulo, il 3-5-2, che presumo verrà adottato già dalla partita col Frosinone domani. Abbiamo lavorato molto su questo, ma abbiamo lavorato anche su alcune varianti. È chiaro che essere legati ai numeri a me non è mai piaciuto, ma è giusto per avere un atteggiamento di equilibrio in virtù delle partite che si affrontano. Quella di domani probabilmente richiede questo. Quindi ho parlato con i ragazzi, ho spiegato diverse cose sui movimenti da fare e quindi se si riuscirà a mettere in atto tutto quello che ci siamo detti, certamente la prestazione sarà positiva. Avrà avuto modo di studiare il Frosinone in DVD? Avrà raccolto informazioni? Che tipo di avversario si aspetta a Barletta? Sicuramente è un avversario esperto, tosto e con delle buone individualità. Loro fanno un 4-3 con i tre centrocampisti piuttosto stretti tra loro a differenza dei tre davanti e hanno delle buone individualità come Santo Ruvo, Aurelio, Canci stesso, Carrus in mezzo al campo, Frara. È una squadra abbastanza tosta, sulle fasce spingono abbastanza bene, però noi di contro ci opponiamo con il giusto equilibrio senza perdere di vista quella che è la fase offensiva. Proviamo a svelare qualche dettaglio della formazione anche se ovviamente supponiamo non ci darà nulla di particolare. È possibile vedere Camigliere e Burzigotti per caratteristiche fisiche e tecniche schierate insieme nella difesa a Tremis? Ci può stare, ci può stare perché giustamente hanno caratteristiche secondo me che in questo sistema di gioco ci possono stare benissimo. Abbiamo lavorato con loro, abbiamo lavorato anche con altri, di Berla stesso. Ripeto, c'è stata grande disponibilità e effettivamente questo poi ti porta a dover fare delle scelte. Le scelte le sappiamo, 11 vanno in campo più quelli che andranno in panchina, quello che dispiace è lasciare sempre fuori qualcuno in tribuna perché oltretutto su un gruppo abbastanza numeroso come questo bisogna farlo e quindi andiamo avanti così. C'è la possibilità di rivedere qualche giocatore assente da tempo nell'11 titolare, mister? Ripeto, siccome c'è stata disponibilità da parte di tutti quanti, qualche calciatore probabilmente sì perché ho visto che ha fatto buone cose con grande dedizione e con attenzione e quindi anche in virtù delle caratteristiche, perché poi alla fine i moduli determinano le caratteristiche dei calciatori e siccome ritengo che ce ne sono alcuni di questi che rientrano bene in quella che è la mia idea di gioco.